si è tenuta domenica 11 agosto al teatro antico di Tormina l'edizione 2024 del premio Tormina Gold una meravigliosa serata di gala che accende da anni i riflettori su Tormina presentata da Patrizia Pellegrino e Beppe Convertini in mattina della serata è stata l'attrice catanese Guia Ielo il premio Tormina Gold è tornato quest'anno per meteo del talento di Giannazzaro e con la sua gara eventico adiuvata dai due figli Alessia e Rosario Lapisarda nel corso della serata sul palco del teatro antico di Tormina si sono avvicendati per la consegna del premio personaggi illustri come Marco Serrao, urologo, andrologo primario di urologia al Tirena Hospital, presidente e fondatore della fondazione Toto Morgana a cui è andato il primo alla carriera Enza Perdicaro, nutrizionista, qualificato in terapia di chieto genetica di precisione e patologia polmonare e nutri-genetica Claudio Greco, stilista hot-couture per la moda Vittorio Gamagliani, stilista hot-couture per la sezione mod-arte la moda si veste di carta della fashion design a Laura Mercurio per la sezione cinema, teatro e spettacolo sono stati premiati Violante Placido, Fioretta Mari, Martufello e Francesca Maresca per la sezione imprenditoria e produttività e sviluppo nel territorio il gruppo Binetti, Ecotec, River Restaurant e Lung Bar, Falerna e VDR su SRL e opere generali specializzate Taormina Gold 2024, cosa ci aspettiamo questa sera? Ci aspettiamo come ogni anno, io penso che deve essere una serata necessariamente all'insegna del glamour e soprattutto della solidarietà Ho queste due amiche qua che sono solidarie? Allora, io ho accanto Fioretta Mari che la amo e poi ho anche la mia amica che l'amo Federica pure? Federica è grande Ho capito, la amo tu Gianna è la più grande organizzatrice che c'è attualmente Io sono produttrice E pure bella E anche Martufello? Abbiamo anche lui? Ma già ho fatto Ho già dato Va beh, questa è la diretta, questa è la televisione questo è Taormina Gold Vai Fioretta siamo nel check, quindi qui tutto può succedere Tutto, tutto, tutto Ma qui a scuola come siamo combinati? Eh beh, è caro Tu hai scuola in Italia, nel mondo Io ho scuole abbastanza importantine in America, in Italia Devo dire a Roma c'è una scuola che in questo momento è una delle migliori con la Izzo Dalla quale escono tutti i nuovi attori, i ragazzi Molto importante, infatti vorrebbero entrare tutti ma è difficile entrare, bisogna fare tanti provini perché c'è un numero chiuso Un ospite, un ospite, abbiamo un ospite qui, stai facendo un bel tour della Sicilia, no? Eh sì, come ogni anno, poi l'avevo promesso perché dopo che avevamo fatto il Taobuk ho detto voglio ritornare a Taormina Siamo tornati proprio in questa cornice e quindi ne approfittiamo per non solo girare, per goderci la serata, per rincontrare anche amici che abbiamo visto qui E poi dopo ritornerò nuovamente a farmi un bel tour sotto il vulcano